Lavorare nello spazio pubblico è per me una delle situazioni più interessanti e anche più stimolanti ed è proprio perché oltre a un atteggiamento di progettazione legato al luogo è proprio un atteggiamento mentale. L'opera pubblica ti chiede anche di ragionare in termini quasi funzionali, per esempio in questo mio lavoro è molto forte questo aspetto di uso, di funzionalità perché è a servizio evidentemente di una comunità e di una comunità intendo di persone per cui la comunità di Trivero è una comunità fatta di persone che vengono a visitare questi luoghi. C'è sempre questa dimensione di come mi pongo, arrivo, metto la mia opera, non ascolto niente, nessuno, non vedo niente, che penso che sia un atteggiamento che ormai difficilmente un artista ora contemporaneo che lavora nello spazio pubblico si pone, poi non abbiamo più forse grandi temi da trattare, neanche eroi, per cui chiaramente abbiamo eliminato tutta una parte di monumentalità. Penso all'arte come proprio a un'esperienza che vivi, a un mettersi in relazione e un'opera pubblica richiede alla massima potenza questo tipo di ragionamento, di riflessione e dopodiché di azione. Il titolo dell'opera è 29,88 km2 che è l'estensione del territorio di Trivero. L'opera possiamo dire che è divisa in due parti, una parte è un infopoint che si trova appunto all'inizio del paese al Ponte Lora e l'altra parte del lavoro è qui all'ufficio della Proloco, l'ufficio del turismo. L'ho immaginata proprio al centro di quello che è un incrocio, di quello che è la rotonda. Mi piaceva anche molto questo spazio molto cittadino, devo dire forse questo prende anche molto la mia natura rispetto alla scelta di uno spazio diciamo così in mezzo al verde o naturale. Per cui ho immaginato, ho pensato rispetto appunto anche a una richiesta che era arrivata così parlando col sindaco, rispetto alla mancanza di un punto di informazioni, ho pensato di creare proprio un punto molto semplice in realtà, mi sono anche diciamo un po' così guardata agli infopoint che troviamo in Italia piuttosto che anche all'estero per capire anche quale forma e quale fosse proprio il primo impatto. Cosa mi aspetto io da un infopoint? Mi sono anche posta chiaramente subito questa domanda. Per cui ho pensato di lavorare come forma partendo dalle forme delle vecchie edicole che sono ancora presenti in alcune città, a Torino così come a Palermo ce ne sono tantissime. Di solito queste edicole, questi chioschi sono a pianta ottagonale, io ho pensato anche esagonale, ho pensato invece così anche per pensare una forma un po' diversa che non assomigliasse così tanto a forme già più presenti, ha una forma pentagonale per cui ha questa base a forma pentagonale e anche il tetto è pentagonale, diciamo uso un termine apparentemente sporco che è centrato rispetto al disegno della pianta. È diventata una struttura trasparente per cui ha una sua struttura in acciaio e dopo di che ci sono queste pareti in vetro e alle pareti ho applicato queste vetrofanie, queste immagini di animali presenti nel territorio e li ho stampati molto grandi per cui saranno molto visibili e in cima dal tetto del pentagono è visibile questo lampione, un lampione a globo color giallo che sarà sempre acceso. Se l'Infopoint nasce è nuovo, non c'è, non ha ancora una sua storia, ce l'avrà, ce l'ha, da adesso in poi ce l'ha una sua storia. La Proloco invece ha una sua storia già da un po' di anni ed è poi anche l'interno, il suo carico con tutti i libri, le cartoline e le persone che poi stanno all'interno dell'ufficio del turismo che sono oltretutto persone che lo fanno in maniera volontaria per cui c'è un amore, c'è una passione per quello che fanno. Il mio incontro è stato con il signor Ruggero che è la persona che più di tutti gestisce e distribuisce e ama questo territorio e l'incontro con lui intanto mi ha fatto vedere anche per esempio attraverso le fotografie che si possono vedere, adesso c'è una parete dedicata alle fotografie che parlano della storia, questo è un luogo che parla di storia, bello perché è un luogo di storia ma contemporaneo ora, adesso, qui. È un posto dove si va a chiedere un'informazione e si riceve una risposta, si riceve anche del materiale. Per cui il mio atteggiamento nel lavorare all'interno dell'ufficio del turismo è come l'atteggiamento che io ho avuto nel pensare l'infopoint e probabilmente il mio atteggiamento nel pensare quando mi è capitato di lavorare nel pubblico per cui di essere chiaramente molto in ascolto e di toccare, di stare anche attenta a toccare determinate linee e in questo caso qua alla Proloco ho cercato di mantenere anche strutturalmente questo interno, questo luogo ho cambiato alcune cose, magari l'ho risistemato, l'ho riordinato, i mobili sono gli stessi, magari ho aggiunto qualche arredo forse più comodo anche, per cui c'è una risistemazione, un ordine ma cercando di mantenere quello che già era esistente, anche perché adesso è banale dirlo però poi io me ne vado da qui e chi rimane deve poter gioire di tutto questo, per cui stando in quello che è il suo luogo, il suo luogo di lavoro, di piacere quello che è, deve sentirsi bene però deve anche poi adeguarsi a quello che può essere una novità, in questo caso la novità qui è la mappa, ecco è la mappa, però il signor Ruggero avrà anche una gran bella scrivania devo dire e una sedia molto comoda. Ho pensato di progettare, di costruire questa grande mappa del territorio, proprio un modello 3D come si usavano una volta, come si trovavano una volta questi plastici, che avrà una pulsantiera e schiacciando i bottoni con i nomi dei vari artisti, oltre a delle lucine che si accendono sulla mappa, si ascolterà un sonoro, un'audioguida che è realizzata da me, sono io che racconto brevemente le opere e che introduco le opere con dei suoni. Beh, devo dire che mi sono divertita molto ed è stato anche interessante perché in qualche maniera è come se avessi fatto un po' il lavoro del critico, per un secondo devo dire, cercando di entrare ancora più dentro, oppure di cercare anche quell'aspetto, di girare un po' tutto tondo, ecco, di cercare più aspetti e per cui sono andata quasi a ristudiarmi gli artisti. Mancava forse, e questo è anche l'idea poi di, l'idea iniziale che mi è venuta ancora prima del racconto, è stato il racconto sonoro, per cui dare questa voce, questo suono all'opera, ecco, questa è stata, è l'operazione che ho sentito più forte, ecco, più di avvicinamento. Certo, poi tutto sarà condensato chiaramente in brevissimi secondi, ma devo dire che sicuramente sarei andata, mi aveva preso un po' la mano, devo dire, questa audioguida, mi è piaciuto veramente molto perché poi volendo dare anche questa, fare questo racconto ironico, ho cercato di capire l'ironia di questi artisti, cioè dove, adesso poi alcuni chiaramente li conosco anche personalmente, per cui anche cercare di mettere in luce anche questo aspetto e poi l'ho pensato veramente pensando a chi si metterà di fronte a questa mappa e schiacciando il bottone entrerà in questo mondo. E vorrei veramente che si divertisse, che il dopo, l'andare poi a vedere queste opere mantenesse anche questo spirito curioso e ironico, l'ironico è la parola giusta forse, sì. 29,88 km quadrati è il titolo dell'opera dell'artista Liliana Moro, inaugurata nel 2015. L'opera è divisa in due ed è collocata in due punti, una all'ingresso del paese al Ponte Lora e l'altra all'ufficio della Proloco.